Dottore Bandiera, cosa possono fare AISM, istituzioni e aziende per garantire una presa in carica e una qualità di vita migliori alle persone con sclerosi multipla? Come il progetto che abbiamo presentato oggi dimostra, ci sono diversi livelli che possono essere portati avanti da questo connubio virtuoso tra pubblica amministrazione, enti e terzo settore, associazioni di rappresentanza dei pazienti e delle persone con disabilità e aziende. Prima di tutto non ci si deve fermare a livello di elaborazione e di indirizzi, sono fondamentali le linee di programmazione, ma proprio bisogna avere la capacità di prendere questi orientamenti e questi modelli e calarli concretamente all'interno dei diversi contesti organizzativi che sappiamo essere estremamente diversi da territorio a territorio. Per fare questo è necessario che ci siano investimenti di risorse, di tempo, di pensiero, di idee e soprattutto un approccio di modifica dello status quo. Non bisogna dare per acquisito e per assodato che così funziona, ha sempre funzionato e così va bene, non bisogna avere anche questa attitudine a mettere in gioco lo stato ovvio delle cose, ripensando anche la struttura dei servizi partendo dalla prospettiva della persona. Quello che abbiamo fatto essenzialmente è proprio questo, a partire dai bisogni reali che attraverso il barometro misuriamo ogni anno delle persone coscosi multipla e patologie correlate, del loro familiare, dei caregiver. Per andare a sentire la voce anche della rete dei servizi clinici, la rete dei centri che oggi soffre comunque situazioni di mancanza di risorse, carenze organizzative, non c'è personale dedicato a quanto ce ne dovrebbe essere con un rapporto ancora sbilanciato tra neurologo, infermiere e il numero totale dei pazienti, soltanto per citare alcuni aspetti. E poi fare in modo che anche le aziende supportino questi percorsi in modo unitario, portando la loro prospettiva e anche perché no, un sostegno che evidentemente non è condizionante rispetto poi alla fattibilità e alla sostenibilità di questi percorsi di immersione, di diffusione di buone pratiche.